La foto è quella della festa per il pensionamento di Riccardo Sciumschi, sindaco di Santa Lucia, ma soprattutto medico di base, radiato dall'ordine per le sue posizioni rispetto a vaccini e cure domiciliari. Appostarla l'assessore di Cassugana Silvia Nizzetto, che spettacolo scrive quante famiglie, tanti giovani e bambini per festeggiare il sindaco di Santa Lucia che ha raggiunto la meritata soglia di pensionamento. Ma la sua presenza al raduno e l'apprezzamento per uno dei simboli del popolo Novax mettono in imbarazzo il comune da sempre su ben altre posizioni. Credo che questo post sia più riconducibile a un percorso politico con l'indipendenza veneta, che ha visto certamente il mio assessore Silvia Nizzetto molto vicino alle posizioni del sindaco Zumschi. Quindi io riconduco quel post a questa ipotesi più che alla posizione contro i vaccini e contro il green pass, anche perché l'assessore stessa è proprio vaccinata. È libera ovviamente di portare i suoi saluti e la sua gratitudine a Zumschi se il tema è quello dell'indipendenza veneta. Su altri temi io invece invito la mia squadra e coloro che rappresentano la mia amministrazione a essere certamente molto più prudenti. Salutare un amico che va in pensione e che non vedevo da due anni lo ritengo per me un valore che va oltre alle polemiche e anche alla politica, è il commento della stessa Nizzetto che riconosce a Zumschi la passione e l'impegno messi sul lavoro e in amministrazione. Ma c'è anche un tema di opportunità o inopportunità politica quando si riveste un ruolo e non è la prima volta che Nizzetto, per le sue posizioni, costringe il sindaco a dare delle spiegazioni e a ribadire quale deve essere la linea. Testa bassa, lavorare nel territorio e dar risposta ai nostri cittadini, tutto quello che ci gira intorno e soprattutto che può generare polemiche di lasciarlo perdere perché i cittadini non hanno bisogno di confusione e di polemiche.